Devo togliere l'audio, là e là, ok, bene, allora, ritorniamo qui e ritorniamo, stiamo risolvendo questo sistema lineare, quindi abbiamo preso il sistema lineare e l'abbiamo scritto in forma di matrici, spero che questo vada bene per tutti, questo dovrebbe essere un passaggio adesso che è diventato abbastanza facile e adesso vogliamo andare a risolverlo. Cos'è la cosa importante e cos'è la cosa che Riccardo mi ha chiesto più volte durante questa settimana nel forum, nel gruppo Telegram, mi ha chiesto una spiegazione del fatto di quale sia la struttura della soluzione di un sistema lineare, e perché andiamo a studiare il sistema omogeneo associato invece di studiare il sistema originale. Ebbene, la principale motivazione che ci porta a studiare il sistema omogeneo associato, che per noi è questo, per il sistema in oggetto è esattamente questo, vedete, riscrivo lo stesso sistema e cambio i termini noto, i termini noto in questo caso diventa il vettore nullo, sempre. Il sistema omogeneo associato è caratterizzato proprio dal fatto che la matrice è la stessa ma il vettore dei termini noti è uguale a zero. Questo perché ci sono due motivazioni che ci portano a studiare questo oggetto qui, il sistema omogeneo. La prima motivazione deriva dal fatto che questa particolare struttura è squisitamente collegata, se volete, ad una struttura di tipo matematico, e cioè questo è un sottospazio vettoriale. Mentre la soluzione di un sistema non è un sottospazio vettoriale. Ragazzi, devo lasciarvi un secondo perché purtroppo mi chiamano dalla facoltà. Vi chiedo scusa... Grazie. Grazie. Eccomi qua, ragazzi. Vi chiedo scusa, ma purtroppo c'era la segreteria didattica che mi aveva chiamato per definire quella che dovrebbe essere la data di matematica generale, che quindi è proprio il 17 di gennaio, ok? Quindi vi ricordo, attenzione, cosa importante, adesso il 17 di gennaio avremo l'esame fissato, l'esame di matematica generale. Mi interessava averlo ben definito in maniera che ce l'aveste ben presente e mi hanno chiamato praticamente adesso, durante la lezione, quindi spero che possa esservi utile questa informazione. Torniamo, siamo qui e siamo tornati al nostro sistema lineare. Ripeto un attimo perché molto probabilmente sia io che voi abbiamo un po' perso il filo della discussione. Allora abbiamo un sistema lineare, questo sistema lineare l'abbiamo scritto in forma di matrice e abbiamo studiato il sistema omogeneo associato. Perché stiamo studiando il sistema omogeneo associato? Perché vi dicevo, l'unico sistema che ha in qualche modo la dignità di essere un oggetto matematico ben definito, e cioè un sottospazio vettoriale, è il sistema omogeneo. Invece il sistema non omogeneo, quello con la P, per capirci, diversa dal vettore nullo, non è un sottospazio vettoriale. La seconda cosa importante è il collegamento che c'è tra i due, perché uno dice, caspita va bene che il sistema omogeneo è un sottospazio vettoriale, ma chi se ne frega, se la soluzione del sistema omogeneo non c'entra nulla con la soluzione del sistema invece originale, perché me lo vai a studiare? La seconda motivazione è che l'insieme di tutte le soluzioni del sistema non omogeneo, quello con la P, per capirci, può essere scritto nel seguente modo, e cioè con una soluzione particolare, che io adesso chiamo X stellina, X star, più la soluzione dell'omogeneo associato. E questo sappiamo che è un sottospazio vettoriale. Per capirci, se fosse un sottospazio vettoriale di dimensione 1, avrei che la soluzione è scritta così, dove V è un vettore che mi va a definire la soluzione del sistema omogeneo associato, e cioè il sottospazio vettoriale legato al sistema omogeneo associato. Chi è questo qui? Chi è questo oggetto qui? Questo oggetto qui non è univoco, è una, attenti, non la, ma una soluzione del sistema originale di questo. Quindi, la cosa rilevante è che è importante studiare il sistema omogeneo associato perché aggiungendo alle soluzioni del sistema omogeneo associato una qualsiasi soluzione del sistema originale, noi andiamo a definire tutta la struttura, tutta la struttura delle soluzioni. Attenti, la struttura delle soluzioni non è univoca, e cioè non c'è un unico modo per scrivere questo oggetto qui. Detto in altri termini, questo oggetto qui è ben definito da un punto di vista geometrico, ma non è ben definito, non è univocamente, non si può esprimere in modo univoco, da un punto di vista algebrico. E cioè, persone diverse potrebbero scrivere il sottospazio vettoriale in modo diverso, e questo l'abbiamo visto, se ci pensate, l'abbiamo visto benissimo perché abbiamo avuto la necessità di normalizzare il vettore che inseriamo qui, imponendo che la prima componente, non nulla, sia uguale a uno. Ma non solo, la soluzione che otteniamo qui potrebbe essere diversa, e cioè persone diverse potrebbero trovare quella soluzione in modo diverso. Tuttavia, l'oggetto in sé, tutto unico, è univoco. Adesso proviamo a vederlo in un esempio, e qui, per dirvi, questo potrebbe essere, un esempio di questo potrebbe essere, studia il sistema AX uguale a zero, dove l'A è esattamente questa matrice qui. Questo invece è, a tutti gli effetti, un argomento d'esame. Noi sappiamo già che il sistema ammette soluzioni, giusto? Sappiamo che questo sistema ammette soluzioni, che è un sistema omogeneo, perché il rango di A è sempre uguale al rango di A zero, dove zero è il vettore nullo. Bene, calcoliamo il rango di A. RK di A è uguale. Poi vediamo tra un attimo perché calcolo il RK di A. RK di A è il rango di 1, 1, meno 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0. E qui vediamo subito che il rango sta tra 2 e 3. Vedete, il determinante di questo è diverso da zero, e quindi qui abbiamo un rango che sta tra 2 e 3. Quindi il rango è 2 se il determinante di tutta la matrice, che è l'unica 3x3 contenuta nella matrice, è uguale a zero. Il rango è 3 se il determinante dell'unica 3x3 contenuta lì dentro, che è la matrice stessa, è diverso da zero. Andiamo a calcolare questo determinante. e otteniamo. Lo sviluppiamo rispetto alla prima colonna. Questa è una posizione pari, più dispari, più, quindi non ho nessun problema, e otteniamo il determinante di 1, 1, 2, 0, più, determinante di, 1, meno 1, 1, 1. Quindi qui abbiamo meno 2, e qui abbiamo più 1, più 1, e cioè 0. Abbiamo appena dimostrato che rk di a è uguale a 2, e quindi il sistema ammette infinito al numero di incognite 3 meno il rango, infinito alla 1, soluzione. Quindi dobbiamo andare a trovare in modo esplicito queste soluzioni. Bene, andiamo a trovarlo. Vi ripeto, questo potrebbe essere, partiti da questa domanda, potrebbe a tutti gli effetti essere una domanda d'esame. Permettetemi di fare una cosa alternativa. Che cosa sarebbe successo se avessimo dimostrato che rk di a è uguale a 3? Qualcuno mi lo sa rispondere. Quale sarebbe stata la soluzione? Può succedere all'esame, può succedere che rk di a è uguale a 3. Allora il sistema ammette che cosa? Ammette quante soluzioni? Riccardo, trovo con te. Bravissimo, Luca. Ammette un'unica soluzione. E Luca, sai dirmi qual è, o qualcun altro? Sapete dirmi qual è la soluzione? Vettore nullo, bravissimi. Gioia, William e Luca, ottimo. Vettore nullo, chiaramente. Perché, se osservate, il vettore nullo è l'unico che, moltiplicato per, è quello che sempre, moltiplicato per qualsiasi matrice, mi restituisce il vettore nullo. Ottimo, bravissimi. Avete capito? Invece abbiamo infinito la 1 soluzione, quindi dobbiamo andare a ripescare il nostro sistema e andare a risolverlo. Cos'è che sappiamo dal rango uguale a 2? Il rango uguale a 2 ci sta dicendo contemporaneamente che, attenti, ci sono tre equazioni, ma solo due di queste sono significative. La terza è linearmente dipendente dalle due precedenti. Quindi ci troveremo nel nostro sistema ad un certo punto una riga con 0 uguale a 0. Mi riscrivo il sistema, me lo riscrivo adesso in termini di sistema omogeneo. Dalla seconda equazione trovo x2, x2 uguale a meno x3, e lo sostituisco sotto nelle altre. Ottengo x1 meno x3 meno x3 uguale a 0 e x1 meno 2x3 uguale a 0. Vedete che le ultime due equazioni sono esattamente la stessa cosa. Questo deve succedere e succede sempre. E quindi qui abbiamo x2 meno 2x3 uguale a 0 e x1 meno 2x3 uguale a 0. Detto in altri termini, abbiamo x2 uguale a meno x3, poi abbiamo x1 uguale a 2x3, e sotto abbiamo 0 uguale a 0. Come avevamo detto, perché? Perché il rk di a è uguale a 2 e quindi vuol dire che ci sono due equazioni significative. Bene, ma a questo punto possiamo dire che x3 è uguale a t, a questo punto x1 è uguale a 2t, e invece x2 è uguale a meno t. Perché? Perché abbiamo visto che, osservate, x1 è una variabile fissata, è quella lì, x2 è una variabile fissata, è quella lì, mentre x3 non abbiamo nessuna condizione su x3 perché ci è venuto uno 0 uguale a 0 e quindi è una variabile libera. E quindi abbiamo scelto i numeri reali. Ma cosa significa questo? Che la soluzione è 2t virgola meno t virgola t e cioè per ogni t appartenente ad r e cioè il sottospazio vettoriale generato da 2 meno 1 1 e abbiamo detto questo non ci va bene, il sottospazio vettoriale generato dobbiamo sempre normalizzarlo a 1 e quindi questa mi diventa 1 virgola meno un mezzo virgola un mezzo e questa è la soluzione che dovremmo inserire in Moodle risolvendo il sistema omogeneo. Ebbene, quello che io vi sto dicendo, ho cercato di dirvi all'inizio, è che questo, vedete che è la parte tra virgolette dignitosa, questo è un sottospazio vettoriale ed è per questo che andiamo a studiare il sistema omogeneo. Se io invece volessi andare a studiare il sistema non omogeneo, cosa otterrei? Proviamo a rispettere esattamente lo stesso ragionamento e vedrete che quello che ci viene, adesso rifaccio gli stessi conti, li ho già fatti nelle lezioni di teoria, ma li faccio di nuovo volentieri, quello che ci viene è semplicemente da qualche parte qui un più qualcosa, più qualcosa, più qualcosa, con dei numeretti, adesso 2, 3, 6, non è vero, ok, tra un attimo gli mettiamo quelli giusti, ma ci viene una cosa di questo tipo che non è a tutti gli effetti uno spazio vettoriale, non è uno spazio vettoriale e quindi la modalità che abbiamo è scegliere un vettore particolare, quello che ho scritto in blu, più lo spazio vettoriale. Tuttavia questa scrittura non è univoca, mentre è univoca, la struttura, quel sottospazio vettoriale lì è unico. Magari potremmo rappresentarlo in modo diverso, ma è quello lì in qualche modo che mi genera la soluzione del sistema. E voglio andare nei dettagli, voglio far definirvi questo esercizio sperando che vi possa essere utile. Mi pesco questa parte qui, sì, e la soluzione 0, 1, 1, poi copio. spostiamo verso l'alto e eliminiamo i pezzi che non ci servono. vedete, questo è l'omogeneo, questo non è più il sistema omogeneo, è il sistema originale. Cerchiamo di fare lo stesso ragionamento. Allora, mi ricalcolo x1, x1 cos'è che è? E portiamolo di là meno x2, meno x2, più x3, meno x2, più x3. A questo punto, questa qui mi rimane uguale, x2 più x3, uguale a 1, mentre qui sotto ottengo meno x2, più x3, più 2, x3, è uguale a 1. Ho ricavato la x1 e l'ho sostituita in tutte le altre, c'era solamente nella terza, quindi l'ho sostituita solamente lì. Fatemi controllare, meno x2 più x3, più, ho sbagliato, attenzione, vedete che per fortuna l'ho ricontrollato, questa qui è una x2. Bene, allora, la prima mi rimane uguale, x1 uguale a meno x2 più x3. Dalla seconda possiamo ricavare x2, x2 è uguale a 1 meno x3 e qui sotto questa ci darebbe x3 più x2 uguale a 1. La stiamo sostituendo e quindi otteniamo x3 x3 più 1 meno x3 uguale a 1. da questo vediamo subito che abbiamo che è giusto il nostro conto, vedete che ci viene di nuovo 1 0 uguale a 0. Sappiamo che il rango della matrice completa è uguale al rango della matrice incompleta è uguale a 2, quindi ci sono due equazioni che sono tra loro linearmente indipendenti. Ne abbiamo scritte tre, ma una di queste è combinazione lineare delle altre, quindi non ci serve. Infatti ci è venuto un 1 uguale a 1 che corrisponde a 0 uguale a 0. scegli quello che vuoi. Vedete? Abbiamo a questo punto di nuovo che x3 la possiamo scegliere come variabile libera, ma questa volta x2 osservate ci diventa 1 meno t e guardiamo cosa ci diventa x1. x1 ci diventa meno x2 e cioè meno 1 meno t più x3 e cioè più t. Detto in altri termini otteniamo x2 è uguale a meno 1 più 2t x2 è uguale a 1 meno t e x3 è uguale a t. Adesso riproviamo a scriverci questo sistema, questa cosa, in modo da utilizzare le operazioni con i vettori. Vedete ragazzi che ci troviamo un pezzo che dipende da t e questo pezzo che dipende da t cosa è che è? Cosa è questo pezzo che diventa da t? Guardate, 2t meno t t torno indietro 2t meno t t eccolo qui, è la soluzione dell'omogeneo associato. e poi ci troviamo dei numeretti quelli che prima vi avevo scritto in blu che sono nel nostro caso 1 meno 1 1 e 0 non c'è niente dall'altra parte. Quindi l'unico modo per scrivere questa soluzione qui adesso in forma vettoriale è scrivere meno 1 più 2t virgola 1 meno t virgola t adesso mi conviene rompere quello che contiene t e quello che non contiene t e cioè meno 1 virgola 1 virgola 0 più 2t virgola meno t virgola t osservate ho individuato i pezzettini che contenevano t vedete e li ho inseriti solo sfruttando la somma tra vettori adesso questa io la riscrivo nel seguente modo meno 1 1 0 più sottospazio vettoriale generato da 2 meno 1 1 e vedete qual è la caratteristica più importante di questa cosa qui che da un punto di vista tecnico questo è un oggetto geometrico ben definito ma qualcun altro di voi avrebbe potuto fare questi conti e ottenere la seguente soluzione e cioè 1 virgola 0 virgola 1 più 1 virgola meno un mezzo virgola un mezzo e vi assicuro che la soluzione è esattamente la stessa ok quindi vedete che non ha non ha dignità di univocità analitica ok algebrica ma osservate che dipende persone diverse possono trovare soluzioni diverse vedete che questa è una soluzione a tutti gli effetti guardate se voi mettete al posto di x1 1 guardate 1 0 1 osservate vedete che nella prima viene 0 nella seconda viene 1 e nella terza viene 1 vedete che hai tutti gli effetti e Luca ti rispondo tra un attimo vi è chiaro intanto quindi la cosa importante l'omogeneo associato lo utilizziamo per due motivi il primo è perché in qualche modo scomponiamo il problema in due parti prima mi trovo l'omogeneo associato e capisco chi è poi vado a trovarmi la soluzione particolare la soluzione particolare potrebbe non essere unica anzi sicuramente non è unica perché ce ne sono infinite e quindi possiamo scegliere una di queste come soluzione che ci permette di descrivere l'oggetto che non è però un sottospazio vettoriale mentre è un sottospazio vettoriale la soluzione dell'omogeneo associato Luca in questo caso dobbiamo normalizzare 1 allora sì ma attenti non vi chiederemo mai questa cosa qui e questo ho cercato di raccontarvelo bene perché perché non c'è una modalità unica come faccio a farvi scrivere in Moodle questa cosa? Riccardo potrebbe scrivermela così e Luca potrebbe scrivermela così ed è giusto è la stessa cosa ok ecco perché non vi chiederemo mai un sistema non omogeneo che ha infinite soluzioni vi chiederemo sempre un sistema omogeneo che ha infinite soluzioni nel quale abbiamo deciso di normalizzare ognuna prima componente quindi in questo caso non andrebbe bene questa ma andrebbe bene solo questa qui ragazzi sono riuscito a spiegare ritorna Riccardo che mi abbiamo fatto la domanda va meglio adesso? grazie a te Riccardo grazie a te per la domanda sono contentissimo avete qualche altro dubbio ragazzi? posso farvi qualche esercizio magari controllo controllo su Telegram se avete qualche altra domanda guardate una cosa che mi è capitata spesso se volete torno indietro faccio io non avete nessuna domanda ma faccio io e vi rubo altri quattro minuti di tempo perché lo vedo che vedo che lo sbagliate spesso in Telegram ok guardate la seguente la seguente osservazione la soluzione di questa equazione la soluzione di questa equazione differenziale allora la possiamo risolvere sia con la soluzione con l'equazione differenziale lineare vedete sia variabili separabili in questo caso sono quelle che si possono risolvere in tutti i nuovi preferisco le variabili separabili perché mi è più facile più veloce e provo prima a vedere se c'è la soluzione immediata quella che chiamo che ho chiamato ridendo Forrest-Gump ok e vi ricordo le equazioni differenziali a variabili separabili sono quelle che si scrivono così e abbiamo una soluzione Forrest-Gump costante ok quando questo oggetto qui inserito qui dentro mi da zero in questo caso la soluzione sarebbe y di x uguale attenti non identicamente uguale a zero mi raccomando che è un errore che capita spesso ma costantemente uguale a y zero nel nostro caso abbiamo il meno uno abbiamo il meno uno che andrebbe inserito al posto della y vedete perché qui k di x è uguale a uno e ho sbagliato h di x è uguale a uno h di x è uguale a uno e k di y invece è uguale a y e quindi inserito al posto di y mi da meno uno che è sicuramente diverso da zero quindi possiamo applicare la formula e otteniamo che dy su dx è uguale a y è facilissima variabili separabili diventa dy fratto y è uguale a dx integriamo da una parte e dall'altra e integriamo tra meno uno e y e tra zero e x ok l'errore che vedo spessissimo che mi commettete è a questo livello qui perché e ho cercato di raccontarvelo tante volte sia in teoria che negli esercizi ma molto probabilmente serve la sensibilità serve aver percepito quella sensibilità l'importanza di questa cosa e cioè l'integrale che noi otteniamo qui nella prima funzione può essere logaritmo di x o logaritmo logaritmo di y o logaritmo di meno y attenti ragazzi ok e osservate vedete che abbiamo un punto negativo qui quindi molto probabilmente stiamo integrando nell'intervallo meno infinito zero perché questo perché meno uno y è sicuramente un sotto insieme di meno infinito zero questo mi dice che l'integrale di uno su y non è logaritmo di y ma è logaritmo di meno y calcolato tra meno uno e y dall'altra parte l'integrale è immediato perché è x calcolato tra zero e x vedete se voi non mi fate questa cosa qui vi viene trovate poi degli errori guardate e proviamo a farlo proviamo a sbagliare sbagliamo volutamente ok lo sbagliamo volutamente ci troviamo ci rendiamo conto che abbiamo commesso un errore perché perché facciamo logaritmo di y meno logaritmo di meno uno uguale a x vedete che c'è un errore qui io non posso fare il logaritmo di meno uno facciamolo invece nel mio caso quello corretto mi viene logaritmo di meno y meno il logaritmo di uno uguale a x questo sparisce e ottengo che meno y è uguale ad e alla x e cioè y è uguale a meno e alla x osservate la differenza sostanziale che abbiamo vedete che questa soluzione è sempre minore di zero questa soluzione è sempre minore di zero ma lo sapevamo lo sapevamo perché lo sapevamo perché è contenuta qui la soluzione non può attraversare lo zero è proprio sbagliato ed è secondo me è addirittura un errore io di mio lo segnerei in un esame inserire il valore assoluto logaritmo di valore assoluto di y perché non è vero che stiamo facendo il valore assoluto ok non è vero la soluzione è sempre negativa è quella lì però accetto la cosa fondamentale è che non mi capitiate in questa parte qui rossa perché questa è proprio sbagliata e rischiate di commettere errori ok rischiate che per far funzionare questo oggetto qui mi cambiate i segni dall'altra parte o fate delle delle stupidaggini sono riuscito ragazzi mi avete seguito ok 10 e 21 io se se non avete altre domande chiuderai qui vi ho già rubato anche troppo tempo 53 siete stati anche troppo gentili avete qualche altro dubbio problema ragazzi no benissimo allora io vi ringrazio vi ringrazio ancora per la vostra presenza fino a quest'ora così numerosi e ci vediamo a lezione lunedì in presenza ok buon fine settimana ragazzi grazie Angela grazie mille grazie a te cara grazie Anna Eleonora gentilissime Marco e anche Riccardo grazie ragazzi grazie mille grazie per la vostra presenza grazie a te